Meno automobili nuove, meno mobili ed elettrodomestici. Anche nel 2013, secondo l'osservatorio di Findomestic Banca, che ha presentato gli ultimi risultati in materia di consumi, cala l'acquisto di beni durevoli. Complice la crisi e la diminuzione del reddito pro capite dello 0,5%, i cittadini toscani, in linea con i dati nazionali, rinunciano all'acquisto di alcuni beni, contraendo la spesa del 5%. A resistere sono il mercato dell'auto usata, cresciuto dell'1% rispetto al 2012, e quello dei prodotti informatici, aumentato del 4,3%. La spesa in Toscana ha registrato una flessione del 5% in linea con la media nazionale. E a pesare su questo andamento negativo è stata soprattutto la contrazione di mercati importanti, come quello del mobile e come quello dell'auto nuova, che hanno registrato in Toscana una flessione intorno al 6%. Con i consumi cambiano anche gli stili di vita. Secondo dati Ipsos, l'83% dei cittadini toscani ha modificato il proprio modo di vivere per fronteggiare la crisi. Sicuramente hanno cambiato le abitudini al consumo, hanno ridotto le spese relative ai viaggi, hanno ridotto le spese relative all'abbigliamento e ai ristoranti soprattutto. Consumi a parte, i toscani intanto guardano al futuro? Equità, istruzione e civismo sono, secondo gli intervistati, le strumenti per far ripartire il paese.